E siamo qui! La ferita chi l'ha avuto? Boh, nessuno Allora, io i cartoni, Biccio siamo in fondo all'ultima Luca per esempio sta staccando i piedi Via Clase dalla grotta e usciamo per l'ultima grotta della Sarga oggi febbraio, l'ultimo giorno febbraio 28 qui c'è Biccio Siamo in questa bellissima Prana Piperino Ciao Turchi Volevo dire che non abbiamo ancora trovato i miei cinque nipotini qui, qua, qua, lì, là da qualche parte si saranno nascosti perché hanno detto che venivano in sta grotta non ci credo e siamo qui qui, qua, qua, lì, là ciao Luca I miei cinque nipotini di Piperino vai 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 Ciao 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 Ciao